si è frank il tuo parma è andato bene ieri franco è andato a mangiare infatti ciccione è un pangoccio è diventato frank e patatine stai mangiando schiacciatina diventerai una schiacciatina non si avvisa quando si fa mi sono scaravoltato tanto ho la storia infiniti a si ferma in caricamento anche tra il passato no io no ma tu hai il caldo avete un rapporto intimo con le patatine no lui lui e come si chiama e i frammenti ascendenti hanno un rapporto intimo l'ho messaggio l'ho fatto a lontano che cazzo l'amico ci arrivo con lo stregone frank si con lo stregone dai vediamo che arriva per prima ma non so frank a culo cosa fanculo non ci arrivo faccio il giro franco sua mamma piacciono i grilli è quella roba lì può fare anche un stato più basso e io voglio fare altro bella belle ma come fai a morire bomba nova ma lei tirata almeno cazzo non vedi no non la vedo sono matto ma prima avvise poi ti suicidi o prima avvise poi muori prima avvise poi si suicida e ho causato ammasso che cazzate dietro una roccia dove non mi prendono frank uccidi qualcuno sto scappando verità frank immortale ho visto sono immortale per un po di tempo ma perché mi stai succedendo perché sono stronzo perché lo fai dopo anche se ho visto non ce l'ha più voglio essere l'ultimo con il barracuda adesso sono io l'ultimo col barracuda fidammelo barracuda for life esplodevamo tutti ma tu devi capirlo che andando di sotto non sai come sono morto l'ho investito solo che poi l'ho investito da morto ma io non ce l'ho più sopra più mi non voglio arciò no c'è un cazzone arriva in me ma se qua un posto vincolato dove eronico stavo saltando solo l'ultimo e guarda dove stai cadete no non scappa non mi ha perduto le palle posti di merda molte riposti più brutti che esistono e dico dove sei ok sono andato a rianivarlo ma sono morto anch'io senza fantasia frank non ci vuole nessuna parte ma chi è che i passerò ok non l'hai visto no tu puoi vederlo non è forte ha però già l'olto ma i frammenti ci devono sempre essere in sto cazzo di cala porco giuda le ha breccato il giocatore forte o come prima un'esotica unita io non far niente adesso bellezza state beccare fra me ogni tanto capita tutti in orbita dove siamo ma in torno è sbagliato distrutto cosa distrutto teso